Se vai a pescare, cerca sempre di essere accompagnato. Mantieni sempre una distanza di sicurezza e controlla lo stato del mare. Rispetta sempre le regole e le istruzioni in ogni situazione. Fare foto sempre da zone sicure. Mantenere una distanza di sicurezza con il mare. Stare attenti alle condizioni meteorologiche e dallo stato del mare. Non tuffarsi di testa in zone rocciose e poco profonde. È un consiglio del Governo delle Canarie, del Gabildo de Gran Canaria, del Dipartimento della Città del Mare del Comune di Las Palmas de Gran Canaria. Le acque delle isole Canarie. Sicurezza a tutti i costi. 112, emergencia, sigame. 11 i costi. Ci vediamo. Ci vediamo. Grazie.